Anche qui, poco lontano dal mare di Riccione, un'entroterra che va visitato. Quello che state vedendo è il borgo di Montefiora, piccolo accogliente antico. Un borgo posto a guardia della Valconca, proprio sul confine tra Romagna e Marche, verso il Ducato d'Urbino. Passeggiando per le vie di Montefiora si notano evidenti i segni di un passato di tutto rispetto. Non fosse altro che per la potentissima rocca e per la evidente struttura medievale dell'abitato. La rocca fu costruita verso la metà del 1300 e mantenuta dai malatesta per più di 100 anni consecutivi. Ma qui il panorama è unico per la posizione dominante e i colori.